Qui non parlo di presunzione, però parlo di non sottovalutarsi, perché anche l'animatore, oppure in molti casi l'insegnante, è comunque un partecipe, è comunque un componente di questo gruppo che compone e realizza arte e poesia. Anche l'adulto non deve pensare di sé che intanto comunque fa del suo meglio. Deve fare del suo meglio, ma non per giustificarsi, ma per fare la cosa più bella che può. Non per essere un bravo dilettante, ma per essere professionale al massimo, nonostante i limiti che le sue altre attività gli impongono. Non bisogna sottovalutarsi, bisogna valorizzarsi e diventare poeti, artisti.